shalom 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 eccoci qui con un'altra lezione delle serie del libro di capo cali di apocalisse ok e oggi ne tratteremo con il libro di apocalisse capitolo 10 e salto drittamente a 10 senza fare il 9 perché in realtà ho già fatto il 9 e il titolo è la prima guerra mondiale è registrata nella bibbia perciò vi consiglio di andare a vedere ok anzi vi consiglio di vedere tutte tutte le serie che ho fatto su libro di apocalisse e dico questo solamente a coloro che con sincerità cercano e vogliono sapere questa verità qui ok e anzi penso di fare una sorta di playlist con tutti i video dell'apocalisse che ho fatto perché è importante che andate a vedere tutto dall'inizio per avere più conoscenza di questa cosa qui e prima di iniziare voglio dare tutti i lodi e ringraziamenti al padre yahawa nel nome di suo figlio yahawa shai il nostro re e rendentore e come sempre i miei doppi onori agli apostoli e anziani della great muston per avermi insegnato questa verità e pace e saluti alla casa di israele a coloro che con sincerità cercano questa verità a coloro che stanno lavorando su questa vigna in questi ultimi giorni qui miei saluti inizio senza perdere molto tempo vidi ancora un altro angelo vigoroso scendere dal cielo era avvolto in una nuvola e sul capo aveva un arcobaleno come aureola il suo viso era simile al sole e le sue gambe somigliavano a colonne di fuoco questo è giovani e ciò che vedeva qui non è altro che un ufo e così chiamato ufo in realtà sono i cari del padre lui vedeva una cosa di questo genere ok anzi per darvi l'arcobaleno questi sono i colori dell'arcobaleno che diceva ok ed è questo che vedeva giovani ok perdonatemi un attimo eccoci qui ok era avvolto in una nuvola il suo capo aveva un arcobaleno come aureola suo viso era simile al sole e le sue gambe somigliavano a colonne di fuoco quello che avete appena visto e in mano teneva un libretto aperto e questo libro è la bibbia la scrittura poggiò il piede destro sul mare e il piede spiede sinistro sulla terra sta dicendo che questa navicella era così tanto grande era enorme perché una parte era nel mare e una parte era sulla terra era grande ok poi gridò con voce forte come il rugito di un leone ok al suo grido ripose il rombo dei sette tuoni quando i sette tuoni ebbero parlato io stavo per mettermi a scrivere ma udì una voce da cielo no non scrivere ciò che i sette tuoni hanno detto perché deve rimanere segreto e l'angelo che aveva visto che avevo visto in piedi sulla terra e sul mare al solo a destra verso il cielo ok e giurò nel nome di jahua che vive per sempre il quale ha creato il cielo la terra il mare i loro abitanti disse non passerà molto tempo ancora ok infatti non passerà molto tempo ancora ci manca davvero poco che è quello che diceva l'angelo e andiamo avanti e quando il settimo angelo suonerà la tomba e ha realizzato il suo piano segreto come aveva promesso ai profeti che insegnavano nel suo nome e qual è questo è di prendere di buttare giù ok di buttare giù babilonia perché babilonia è comunque ha conosciuto oggi il moderno babilonia e america sono i problemi della di tutto il mondo ok e tutti i suoi complici ok sono i problemi del mondo i suoi complici europei ok i russi questi sono i problemi del mondo il padre ha promesso che sono loro che ci tengono in tutta la schiavitù che siamo oggi il padre ci ha promesso di liberarci da mano loro e infatti l'angelo diceva che il tempo non manca non manca tanto per darvi un precetto su questo versetto andiamo a leggere dal libro di isaia anzi come come consiglio questa versione delle scritture che è la 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 interconfessionale con lingua scusatemi si chiama traduzione inter confessionale in lingua corrente ok allora andiamo a leggere dal libro di isaia era capitolo 13 e versetto iniziamo leggendo da versetto 19 ok anzi vedete dice il giorno il suo giorno è ormai vicino come quello che ha detto l'angelo comunque iniziamo leggendo da qui che dice babilonia è il gioiello dei regni l'orgoglio l'orgoglio del suo popolo infatti america è il gioiello di tutto america ciò che può tira fuori america fanno tutti america comanda tutto il mondo che è della babilonia di cui sta parlando qui non sta parlando dell'antica babilonia l'antica babilonia è stata presa dalla mano di 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 chi era di nebucca denazza ok è stato preso dalla sua mano ed è stato dato al re ciro dei medi e persiani andate a vedere video che ho fatto sulla visione di daniele per capirne di più ok perciò quella babilonia sappiamo che è passata e questo sta parlando del nuovo babilonia che è america che l'orgoglio del suo popolo ma io il signore distruggerò babilonia come sodoma e gomora infatti babilonia antica non è stata distrutta come sodoma e gomora è stata conquistata proprio silenzio silenzio silenzioso ok il re è stato ucciso sul tono ok e hanno preso il controllo di babilonia era la fine di quel regno là ok perciò questo sta parlando della babilonia del futuro che è america ok distruggerò babilonia come sodoma e gomora e ricordatevi che sodoma e gomora sono caduti delle pietre di fuoco dal cielo ok che noi chiameremo oggi asteroidi ok e questa è la similitudine di quello che succederà ad america ma questa volta saranno le bombe nucleare che caderanno dal cielo ok ma il padre ha fatto queste bombe nucleare attraverso la mano dei malvagi che sono uno strumento nelle sue mani ok saranno i russi cinesi saranno loro ok infatti c'è un versetto che parla di questo ai affoggi scusatemi non mi ricordo il versetto mi sa che è in libro di isaia c'è un versetto mi sa che è in isaia cinquanta quattro sei lì ti isaia cinquanta quattro dopo torniamo qui cinquanta quattro e 16 che dice io ho creato il fabbro che soffia su fuoco e forgia le armi e ho creato il soldato che le usa per uccidere avete capito qui sta parlando coloro che stanno creando tutte queste bombe nucleari che credono di avere tutta questa conoscenza sono dei strumenti nelle mani del padre ma loro non non sanno credono di avere controllo di tutto come è troppo orgoglioso america dicono abbiamo gli armi più sofisticati nel mondo abbiamo l'esercito più forte abbiamo questo abbiamo l'altro ma non sanno che il padre che gli sta dando tutta questa conoscenza per distruggerli poi ok perciò torna a leggere babilonia è il gioiello dei regni l'orgoglio del suo popolo ma io il signore jahua distruggerò babilonia come sudoma e gomora mai più nessuno lì abiterà infatti america non sarà più abitato da nessuno sarà desole dopo la terza guerra mondiale attraverso le bombe nucleari che saranno pioggiati su quel paese la nessuno nessun normale vi pianterà la sua tenda nessun pastore si fermerà a pascolare i gregi come andiamo tutti la per le vacanze tutto e tutti vogliono visitare questo paese nessuno andrà più la lì si raduneranno gli animali del deserto i guffi vi costruiranno i loro nidi sarà abitato da istruzzi e capre selvatiche si aggireranno tra le sue ruvine ululati di iene e di schiacali risuoneranno nelle torri e nei palazzi sontuosi babilonia ha le ore contate il suo giorno è ormai vicino ok spero che avete abbiate capito questa questo precetto qui che è quello che sta succedendo qui nel libro di apocalisse capitolo 10 quando l'angelo dice e l'angelo che aveva visto in piedi sulla terra e sul mare alzò la destra verso il cielo e giurò nel nome di jahua che vive per sempre il quale ha creato il cielo la terra e il mare il loro abitante disse non passerà molto tempo ancora avete capito andiamo avanti e quando il settimo angelo suonerà la tromba settimo sete che vuol dire completezza ok jahua realizzerà il suo piano segreto come aveva promesso ai profetti che insegnavano nel suo nome ok andiamo avanti la voce si i segreti che ha insegnato ok che insegnavano chi ha insegnavano il piano segreto come aveva promesso ai profetti e quel piano l'abbiamo appena letto nel libro di isaia che distruggerà distruggerà la babilonia ok la voce che avevo udito dal cielo mi rivolse di nuovo la parola vai dall'angelo che sta rito in piedi sulla terra e sul mare e prendi il libretto che sta aperto nella sua mano ok e quel libro che vi sto leggendo è la bibbia ok e io mi avvicinai all'angelo e gli disse dammi il libretto e le mie risposte prendilo e mangialo ok sarà amaro per il tuo stomaco anche se in bocca ti sarà dolce come il miele ok sarà amaro per il tuo stomaco anche se in bocca ti sarà dolce come il miele e la stessa cosa è successo a ezechiele e infatti se leggete il libro di ezechiele capitolo 2 versetto 8 anche capitolo 3 versetto 3 troverete lo stesso racconto e perché questa cosa qui è amaro nello stomaco ed è dolce nella bocca perché è la verità una volta veniamo nella verità c'è c'è ci gasa siamo felici wow questa verità che ci ho sempre cercato ti apre la mente poi dopo quando cominci a capirne di più di questa verità e vedere di tutte le cose a che devi rinunciare a vedere che non è proprio un passo facile per ottenere tutto tutto questo qui cominci ad essere triste di nuovo tanti che non sono forti tornano nel mondo e diventano peggio di come erano prima ok perciò una volta veniamo vicino a questa verità c casa siamo felici e poi appena dopo vediamo che per esempio io ero un produttore di musica ok era tutto per me avevo una carriera che stava anche andando a un vero a un buon punto ok ho capito che per seguire padre devo molare tutti quei sogni la ok cominciava a essere un po triste questo ma il padre mi ha dato il coraggio di fare tutto questo ok tanti hanno delle addizioni che non possono molare tante la droga tanti diverse cose ok che non riescono a molare e comincia a diventare una tristezza per loro e questa gente deve fare attenzione perché una volta mola tutto questo diventa peggio di come era prima infatti andiamo a vedere prima il libro di luca poi vedremo anche il libro di secondo pietro libro di luca capitolo 9 versetto 62 yahwah scegli riposte chi si mette all'aratro e poi si svolta dietro non è adatto per il regno di yahwah vediamo un'altra versione più ma yahwah scegli disse nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è dato per il regno del padre yahwah infatti nessuno che ha iniziato questo percorso di conoscenza ok e poi dopo mola e torna nel mondo non è degno del regno ad avvenire il padre ha bisogno di uomini forti di coraggio infatti ha i suoi uomini che ha messo fin dall'inizio della creazione se uno non fa parte di questi eletti qui non riesce a reggere questo tornerà nel mondo ok leggiamo anche il libro di secondo pietro secondo pietro capitolo 2 e versetto 20 se infatti dopo aver fuggito la corruzione del mondo mediante la conoscenza del nostro signore salvatore yahwah scegli si lasciano di nuovo a sviluppare in quelle e vincere la loro condizione ultima diventa peggiore della prima avete capito dopo aver sfuggito le corruzioni di questo mondo attraverso questa conoscenza ok e si lasciano riprendere di nuovo il mondo la loro condizione ultima diventa peggiore della prima perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia che dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato a loro ok perciò a coloro che entrano in questa verità e poi dopo svoltano la schiena e entrano di nuovo nel mondo ciao ciao è peggio per voi è peggio diventa peggio per voi ok tornate nella condizione peggiore di prima ok perciò torniamo siamo quasi alla fine presi il libretto dalla mano dell'angelo e lo divorai e mi fu dolce in bocca come miele ma quando lo ebbe mangiato le mie viscere sentirono ammarezza poi mi disse è necessario che tu profetizzi ancora su molti popoli nazioni, lingue e re e questo vi fa vedere la rincarnazione che è vera ok perché è l'ultimo racconto di Giovanni che sappiamo che è passato è morto sull'isola dove è stato esiliato l'isola del Patmo ok perciò qua l'angelo dice devi profetizzare ancora su molti popoli nazioni, lingue e regni e come sappiamo Giovanni non ha fatto questo non ha profetizzato davanti a nazioni, lingue e regni ok sicuramente quando è tornato nella rincarnazione che potrebbe essere presente qui oggi e siamo sicuri che è presente qui ma non abbiamo la conoscenza di chi è ok potrebbe essere ben tra i fratelli tra gli apostoli ok perciò quella è un'altra prova che la rincarnazione è biblica ok detto questo questa verità non è per tutti infatti le scritture dicono larga è la strada che porta alla morte e perdizione ok e stretta è quella che porta alla vita eterna e saranno pochi che lo troveranno ok così dice le scritture perciò io non sto facendo questi video per avere tantissime tantissime risposte tantissime e per poche persone ok infatti se comincio ad avere troppe visualizzazioni mi devo chiedere se qualcosa sta andando male o sta andando bene ok detto questo spero che siete stati edificati andremo penso avanti sempre in queste serie di libri all'epoca d'alise finché arriviamo all'ultimo detto questo voglio ringraziare il padre per questa conoscenza per tutto nel nome di suo figlio Yahawah Shai il nome del padre è Yahawah ok i miei doppi onori agli apostoli anziani della Great Mewstone per avermi insegnato che attraverso loro il padre o mio padre attraverso loro mi ha fatto avere questa conoscenza e spero che qualcuno possa aprire gli occhi ok e tornare nella verità detto questo dico Shalawam alla casa di Israele e alla prossima Shalawam grazie a tutti